Salve a tutti, benvenuti alla prima partita di training camp di questa giornata. Ci troviamo sul campo del San Pietro. Qui abbiamo la squadra Ascione e De Luca. La squadra Ascione rappresentata da? Non so, dico... Giovanni Ciavoti. Savato Remici. Nello Ascione. La squadra De Luca rappresentata da? Fulvio Calandrelli. Ok, la partita si è conclusa per il risultato di 5 a 8 per De Luca. A segnare per la squadra Ascione sono stati Aquino e Cristopher De Ponte. Io sono Cristopher De Ponte. Non è vero Alfredo, Cristopher De Ponte. Ma c'è Mari, Mari, aspetta, aspetta. Aspetta, c'è Maria. Aspetta, saluta, 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 saluta Maria. Saluta Maria. Sei in diretta. Niente, non ci vuole salutare. Va bene, non fa niente. A chi volete dedicare questi gol? Listo per me. Ah, chi li dedico? Vabbè, io li dedico un Amicicè a Salvatore. Uno, due a Maria e quelli che non ho dedicato li dedico a te. Voi invece a chi volete dedicare i gol fatti? Io a Luca Zuccarini e a Antonio Punzo. Eh, chi c'è detto? Non te lo dedico. Sono Gianni Giacomino e dedico i gol a Stesilu Dongor. Va bene, vi salutiamo. Alla prossima. Oh, no, 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 Puglio, Puglio. Io dedico i gol alle disagiate e al fratello che è romanista come me. Ciao. Voglio salutare Valentina, tutte le scoppiate. Poi, come ti chiami? Anna. Anna, salutiamo Anna. Silvia, Martina che non ci sta più. Non ci sta più, è molto. No, no, non ci sta più, non so perché. Comunque poi passo la parola a lui. Va bene, saldiamo a tutti. Un bacio alla Maverick.